Rispettiamo la nostra città, un manuale per insegnare ai giovani l'educazione civica che sarà distribuito, questo almeno alle intenzioni, nelle scuole cittadine e un progetto 99 muri finalizzato al contrasto del graffitismo selvaggio e alla promozione dei murales ma che siano controllati. A presentarli il consigliere comunale di Forza Italia Giancarlo Della Pelle con il gruppo consigliare supportato da Roberto Junior Silveri, Ferdinando Colantoni e Vito Colonna. L'obiettivo è anche abbellire i muri comunali della città che sarà il comune stesso ad indicare con un manifesto con scritto muro libero. Ogni consigliere compreso sindaco e presidente potranno indicare tre muri, di cui il numero molto significativo tra l'altro in città del 99. Sarà aperto il progetto agli aquilani ma nulla toglie di allargarlo in futuro anche ad altri artisti provenienti da fuori. In città già ci sono esempi di murales di tutto rispetto, l'obiettivo è combattere invece l'imbrattamento che purtroppo nella città che si sta ricostruendo è sempre molto diffuso. Tanti palazzi, anche i giochi per bambini e il parco del sole sono stati imbrattati e questo si vuole evitare controllando il fenomeno e dando la possibilità agli artisti locali di mostrare la loro bravura con opere che vadano ad abbellire la città. Il progetto sarà sottoposto alla commissione di arredo urbano e per il comune dell'Aquila non avrà costi.